Buongiorno a tutti, un'altra pillola di tecnica pistica da parte dei tecnici Alpamiele. Oggi vi facciamo vedere come si marca una regina. Il marcaggio della regina è importante, uno, per individuarla meglio all'interno dell'alveare e due, per determinare l'età della regina stessa. Infatti ogni anno c'è un colore diverso che identifica l'età. Il procedimento è che si individua la regina all'interno dell'alveare. E' una regina non marcata, quindi mi identifica che è del 2019 e io adesso andrò a marcarla con il colore specifico relativo a quell'anno, cioè il verde. Si appoggia il telaio come meglio si crede, io l'appoggio tenendo la leva sugli altri telai e andiamo ad afferrare la regina per le ali, dopodiché la si prende per il torace, il pennarello subito aperto e la marchiamo. Io uso l'uniposca perché anche se va via dopo un anno non dà odori alla regina e quindi viene accettata subito. Dopodiché la rimettiamo sul telaio e lei come se niente fosse ritorna a fare il suo lavoro. Grazie a tutti, alla prossima, buona giornata. Grazie. 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 Grazie.